Filippa la gerbacca incinta? E' questa la domanda che diversi siti che si occupano di gossip si sono posti dopo aver visto una foto della moglie di Daniele Bossari con addosso una maglietta a righe. Dato che l'estate è la stagione in cui spopolano i pancini sospetti, l'indiscrezione ha iniziato a serpeggiare con una certa insistenza. Così, la showgirl è intervenuta per fare chiarezza. Filippa la gerbacca e Daniele Bossari non sono in attesa del loro secondo genito. La modella showgirl, in un breve post pubblicato nell'Instagram stories, ha chiarito. No, non sono incinta. Quindi è precisato che il presunto pancino sospetto era semplicemente un effetto ottico scaturito dalla maglietta a righe che aveva addosso. Per concludere, ha ironizzato. Dopo pranzo non era un buon momento evidentemente. Ogni anno, con l'arrivo dell'estate, il mondo del gossip si popola di pancini sospetti che il più delle volte vengono smentiti. Anche il 2018 non ha fatto eccezione. La già citata Filippa la gerbacca è solo l'ultima di una lunga serie di donne dello spettacolo che si sono ritrovate a dover smentire gravidanze fasulle. Nelle scorse settimane, Laura Chiatty ha tuonato contro il settimanale di più, accusando il direttore di aver ritoccato le foto con l'intento di aumentare le sue curve e farla apparire incinta. Smentita anche la presunta gravidanza di Tina Cipollari annunciata dal settimanale Novo. Michelle Hunziker ha preferito tagliare corto dichiarando «Se sono incinta? In questo momento non lo so. La ciliegina sulla torta, però, è stata la gravidanza di Naomi Campbell presumibilmente in dolce attesa di un figlio con il rapper britannico Skepta. Non solo la modella non è incinta, ma l'uomo potrebbe non essere nemmeno il suo fidanzato. Chi se ne frega!